stavolta sono arrivato secondo mi ero ripromesso di venire qui piuttosto lontano da dove sto per riprendere la mimosa in fiore viceversa la mimosa è sfiorita in compenso ci sono passaggi di gabbiani me ne tolgo d'altra parte sono venuto comunque a salutare gli amici e i carrossieri riuniti passaggio di gabbiani evidentemente qui ci hanno davanti del becchime altrimenti non lo farebbero stop